Un progetto che è presentato tre anni fa, il 4 aprile 2014, cioè un mese prima delle elezioni, è un progetto che non aveva i vedi per camminare. Mancano documenti in continuazione, ci sono solleciti di carta e la procedura che invece è prevista per un progetto di finanza non è questa. Ma ci sono soprattutto delle incongruenze enormi, non c'è un atto a favore dell'ente pubblico, non c'è un atto a favore della Regione Abruzzo o della ALS. Si chiede il cofinanziamento, nessuno dei due enti, ALS e Regione Abruzzo, iscriva ancora nulla in bilancio, non si ha la capacità di bilancio di mantenere un costo. Guardate, si continua a parlare furbescamente di 235 milioni di euro, ma non è vero. Lì si parla di 235 milioni, il manufatto, poi ci sono 12 servizi che vengono esternalizzati, totale costo 704 milioni di euro. E per le esternalizzazioni io credo che i nostri concittadini sanno che è stato il CUP o soprattutto il servizio mensa e ristorazione che c'è oggi nel nostro nosocomio di Chieti. Ci sono delle peculiarità che vengono evidenziate dal RUP e quindi la massima autorità, dove si dice che per esempio non c'è la revisione dei canoni quinquennale, ma si va avanti da aumento in aumento, senza chiamare altre ditte per sapere se quegli aumenti sono dovuti o non sono dovuti. Così come non si capisce perché dove sta scritto che bisogna, se si possa fare, un'app di secondo livello tra l'ospedale di Chieti e l'ospedale di Pescara. Questo viene rimesso in evidenza perché nessuno ha detto se si può fare quanti posti rimangono a Chieti e quanti rimangono a Pescara, quante unità complesse rimangono a Chieti e quante unità complesse vanno a Pescara, ancora più grave. Quello di Chieti è un clinicizzato, cioè ha un rapporto di convenzione con l'università. L'università sarà all'ospedale di Chieti o all'ospedale di Pescara? Io credo che prima di fare il nuovo ospedale qualcuno questi dettagli, che non sono dettagli, ce li deve spiegare. Così come, continuo a dire, ma scusatemi, ma non si può prendere in esame quella che la nuova ingegneria antisismica pone in essere, cioè l'ingabbiamento dei due manufatti. Non si può porre in essere la ristrutturazione che non costa nulla o quasi nulla del San Camillo dell'Ellis, che ha resistito a tutti i terremoti e che darebbe una risposta importante, soprattutto all'economia della città di Chieti. Io credo e mi auguro che questo capriccio d'Alfonsiano finisca qui e diamo subito seguito a quello che già la Procura ha detto, cioè intervenire antisismicamente nell'ospedale di Chieti.